Musica Torna a casa con il premio Miglior Regia e due nomination per Miglior Testo e Miglior Spettacolo la compagnia teatrale Arte d'Intorni di Gualdo Tadino che al Teatro Marconi di Roma ha partecipato al concorso nazionale Teatram sotto la direzione artistica di Emiliano De Martino sabato la serata finale di gala con la premiazione delle opere in concorso Arte d'Intorni partecipava con Soffiando nel Vento opera prima scritta e interpretata dal giovane attore gualdese Marco Bisciaio per la regia di Marco Panfili e dello stesso Bisciaio Quando ero bambino mi mettevo seduto per terra insieme a mio padre in mezzo all'erba e osservavamo il cielo il colore del cielo papà di che colore è il cielo? spesso me lo chiedevo i bambini si fanno tante di quelle domande ma ma quella per me era la più importante capire dove portava quell'azzurro così cristallino fatto d'aria trasparente Soffiando nel Vento è la storia di un ragazzo che fugge da una Kabul devastata dalla guerra e che racconta ormai salvo altrove quello che ha visto e quello che è stato la Compagnia Arte d'Intorni vince un premio che inorgoglisce la migliore regia ad un festival nazionale Teatram Allora partiamo dai due registi che troviamo qui insieme partiamo da Marco Panfili d'obbligo chiedere se ve lo aspettavate se in qualche modo questo premio è stato il coronamento anche di un sogno Sicuramente il coronamento di un sogno sì ma io personalmente non me l'aspettavo se avessi potuto puntare un euro un euro avrei puntato sul testo perché per me è veramente denso di emozioni sì, questo avrei speso un euro sul testo è arrivato sulla regia, va benissimo anzi inorgoglisce forse ancora di più non so se è possibile però siamo orgogliosi Ecco, ricordiamo che siete arrivati a questa nomination che poi è diventata un premio già dopo una selezione di ben 70 opere Sì, dopo una selezione di 70 opere provenienti da tutta Italia ne hanno selezionate sei che poi si sono esibite al Teatro Marconi il 3-4 settembre quindi già quello era una soddisfazione arrivare lì dopo una selezione molto ampia quindi poi anche il premio e le due nomination come miglior spettacolo e miglior testo quindi sicuramente ci fa molto piacere Ecco perché diciamolo questo lo avete vinto però c'erano anche due bellissime nomination delle quali essere oltremodo orgogliosi Sì, indubbiamente perché nomination per il miglior testo e per il miglior spettacolo e premio alla regia quindi sicuramente torniamo camminando a mezzo metro d'altezza Poi ci dirai dove è stato rappresentato questo spettacolo ma andiamo a questo miglior testo Marco perché il testo lo hai scritto tu che cos'è questa storia? Ma è una storia che è nata per caso due anni fa diciamo ci siamo un po' gettati sul sociale sul teatro sociale quindi anche una tematica importante sulla guerra la guerra in Afghanistan è anche sull'immigrazione che più noi consideriamo una storia di emigrazione non di immigrazione è una storia di un ragazzo che fugge dalla propria terra a causa della guerra e si ritrova qui non è definito il posto non è definito il paese quindi può essere un qualsiasi posto nel mondo e ricorda appunto i momenti passati insieme alla sua famiglia il momento anche di quando è dovuto fuggire e quindi c'è un mix di emozioni che poi sono amplificate dalle musiche che sono importanti all'interno del testo dei colori quindi anche le luci sono molto fondamentali e anche poi la scenografia che è rappresentata con un telo quindi con le ombre cinesi dà un tocco di emozione ancora ulteriore che difficoltà ci sono state a interpretare per te che sei nato in Italia vivi in Italia insomma vivi nelle tue certezze e tranquillità come tutti noi rappresentare e interpretare invece un personaggio come forse tanti incontriamo degli immigrati che troviamo oggi in Italia insomma è stato difficile come ti sei relazionato con questo personaggio? Sicuramente è stato complicato e ovviamente noi abbiamo la fortuna come proprio dice il personaggio di vivere dall'altra parte del mondo quindi non c'è nemmeno una conoscenza al di là dei dati al di là delle notizie che comunque abbiamo fatto delle ricerche approfondite su questo ovviamente per arrivare preparati poi c'è il lavoro che si fa su ogni personaggio teatrale fondamentalmente quindi è chiaro che ci vuole un lavoro ulteriore per immedesimarsi al meglio perché comunque non è può essere un personaggio fittizio perché non è ripreso da nessuna storia reale però poi in fin dei conti è la storia reale di tanti immigrati che provengono da quei paesi diceva Marco che nello spettacolo ci sono musiche dal vivo c'è una scenografia pensata per suggestionare ecco parliamo anche un po' di questo musica e scenografia da dove le scelte le scelte della musica sono venute principalmente da Marco cioè insieme quasi nate insieme al testo c'era già ben chiara quali fossero e quando l'abbiamo eseguito qui al debutto qua al Teatro Don Bosco sono state eseguite dal maestro Mauro Businelli al violoncello e dal maestro Michele Fumanti alla tastiera al pianoforte digitale e per il resto la scenografia le ombre cinesi e i colori molto molto forti anche quando ci sono una scena dove lui racconta della guerra nel momento in cui proprio dello stacco dalla sua terra dello stacco dal padre da tutta la sua famiglia diventa tutto rosso anche in sala quindi in coinvolgimento anche del pubblico messo dentro a questa situazione le bombe il frastuono quasi un attimo di disorientamento per tutti ecco questo spettacolo è stato rappresentato più volte lo ricordiamo ha un po' girato il territorio quindi è stato anche questo un tributo che questa compagnia sta dando a questa realtà che forse ha sempre più bisogno di fare cose di spessore culturale sì è stato già rappresentato l'anno scorso sia qua che alla Roccaflea che alla chiesa San Pellegrino e ovviamente adesso dopo questo sicuramente cercheremo di portarlo ancora più in giro sì covid permettendo purtroppo in questa fase questo sì è il dilemma di tutti questo spettacolo mette in evidenza perché non avrai vinto il premio come miglior testo però la nomination già dice assolutamente che sei valido non solo come attore ma anche come scrittore può essere un futuro beh vedremo insomma a me mi piace scrivere piace scrivere molto quindi è nata questa passione anche per la scrittura teatrale adesso vedremo se poi ci sarà la possibilità di mettere in scena qualche altro lavoro ma intanto ci dedichiamo a questo ma stai scrivendo qualcos'altro qualcosa in mente c'è vedremo adesso senza svelare troppo perché ancora è un po' un'idea però qualcosa in mente c'è un po' come Leonardo da Vinci c'ha molte cose che molti foglietti ogni tanto appunta e porta avanti insieme e allora aspettando la sua prossima opera teatrale che cosa fa Arte d'Intorni sempre aspettando che il covid ci consenta di fare molto e molto di più quali sono i vostri progetti per il teatro voi avete anche un progetto dedicato ai bambini che insomma sono i futuri forse attori scrittori ma anche spettatori del domani vanno creati da piccoli sì in effetti abbiamo fatto insieme a Educare la vita buona progetto Rete quest'inverno l'inverno passato avevamo fatto un festival una rassegna teatrale per bambini portato quindi a teatro con quattro spettacoli tra cui anche noi abbiamo presentato il Christmas Carol e la signora e Benise Scrooge e inoltre facciamo anche dei sempre collegati a questo progetto anche dei laboratori per i bambini e c'è stato un buon riscontro per quello che riguarda del futuro vediamo al momento abbiamo chiuso la stagione noi il 24 febbraio pre-covid in tempi non sospetti con il nostro ultimo spettacolo che è di Fedot l'hotel del libero scambio l'idea era quella di portare avanti quello spettacolo lì poi quello lì parla di là di tanti personaggi ma anche abbastanza contatto quindi in questa fase non è l'idea è quella di cercare di riportare in giro quello spettacolo lì ci abbiamo lavorato un anno molto sudore molto investimento e quindi l'idea sarebbe quella lì nel frattempo abbiamo fatto quest'estate un giallo di Agata Cristi un pomeriggio al mare e abbiamo portato anche a Sigillo a Nocera abbiamo fatto qua a Guadotadino sulla Rocca quindi non siamo fermi in bocca al lupo e viva il lupo grazie a tutti Grazie a tutti.